Il Covid barca nuovamente la porta dello spogliato dell'Avellino. Dopo un periodo di calma, il nemico invisibile è tornato nuovamente a serpeggiare nel gruppo. A poche ore dalla gara interna contro il Potenza, sono state riscontrate due possibilità all'interno del gruppo squadra. Nella serata di martedì, uno dei elementi del gruppo squadra ha avvertito leggere i sintomi. Quest'ultimo è stato prontamente isolato e sottoposto ad un testo adigenico che poi a quello molecolare che hanno evidenziato la possibilità al Covid. Nella mattinata, la restante parte del gruppo ha praticato un nuovo tampone di controllo antigenico che ha dato esito positivo per un solo componente. In attesa dell'esame di verifica molecolare, è stato posto in isolamento. Il club nel frattempo ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo anti-Covid. I due sono Alberto De Francesco e Giuseppe Carriero, due che si vanno a sommare alle 17 positività riscontrate nei mesi scorsi. Positività che hanno colpito staff tecnico e giocatori fin dall'inizio del ritiro di Sturno. La specie ora è che le due positività rimangano isolate senza protarsi come accaduto nei mesi scorsi quando lo spogliatoio bianco-verde fu vittima di un cluster da Covid-19.